Vendo lo sport con tantissima gioia e stiamo imparando quanto sia la testa a farci arrivare ai nostri obiettivi, volevo segnalarvi un libro e una storia che racconta proprio questo. Il libro è questo, La felicità ai miei piedi, l'avventura di una trecchia per caso, la giovane autrice Malika Ciaccia che parte proprio dalla determinazione per migliorarsi, per guarire da una malattia e partire proprio dalla malattia a una gamba per poi diventare una guida ambientale escursionistica e organizzare gite di trekking in montagna. È una storia di resilienza, di coraggio e di riscatto, la racconta benissimo, passione e determinazione, tanta testa e tanta gamba. È veramente un racconto molto coinvolgente e di grande ispirazione. Bravissima Malika, grazie, grazie. Sei di Varese come me e spero di farci una gita in montagna con te molto presto. Eccoti qua.